Tutto pronto a Salerno per la ventitreesima edizione di Sposi ma non solo. La manifestazione fieristica che da domani fino a domenica 13 presso il centro agroalimentare di Salerno ospiterà oltre 80 aziende del settore wedding. Questa mattina al Comune la presentazione dell'appuntamento. Ai lavori moderati da Antonio Longobardi di Jolly Group era presente anche l'assessore al commercio Dario Loffredo. La bontà di un'idea nata 23 anni fa. Io mi rivolgo soprattutto alle coppie che devono accingersi a celebrare il giorno più bello della loro vita perché Sposi ma non solo è stata pensata per loro, per dare in 4 giorni, 4.000 metri quadri tutto quello che serve per organizzare una cerimonia piccola e grande. Molti mi hanno chiesto ma il ma non solo è perché Sposi ma non solo è l'insieme di tutte le cerimonie. Quest'anno avremo 4 serate tutte di altissimo livello. Avremo da domani sera e venerdì questo concorso di Misti Sposi ma non solo che sono arrivate quasi a 100 le ragazze e le partecipanti. Sta dando una grande eco alla manifestazione anche su Facebook perché veramente c'è grandissimo interesse. Poi sabato e domenica defilè con questa novità del sabato che le coppie che verranno potranno scegliere tutto quello che riguarda l'intrattenimento per il loro wedding. Noi abbiamo selezionato alcuni stilisti italiani, giovani emergenti e abbiamo anche selezionato una stilista internazionale che viene da Bucarest in questa occasione proprio perché stiamo lavorando anche per cercare di avere un collegamento con la fiera di Sposi ma non solo con quelle che possono essere i contest internazionali. Noi vogliamo la vera donna italiana che è la donna formosa, la Sofia Loren, quindi una sposa, non esiste la sposa con delle classiche misure, esiste la sposa più formosa, la sposa un po' più così però assolutamente no, le donne anoressiche non piacciono agli uomini.